Salve, sono MonkeySimon e questa è la seconda parte di un video riguardante le peggiori armi della stagione 3 del capitolo 3 di Fortnite Perché l'arma in questione meritava un approfondimento a parte Il motivo? Beh, perché è di fatto la peggiore arma tra tutte quante le peggiori di questa stagione, nonché la mia delusione più grande Ma prima vi invito ad inserire il codice MONKEYSIMON all'interno dello shop di Fortnite Se lo farete, darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno E magari diciamo pure a questo tipo di persone che video del genere non sono fatti per lamentarsi Quanto più per esporre una critica, perché la critica non è soltanto qualcosa tipo gettiamo cacca sulle cose Quanto più un esponiamo i problemi di un qualcosa e proponiamo anche eventualmente una soluzione Cosa che ho fatto nel video precedente, ma anche in tantissimi altri Ma sai come molte persone fruiscono solo e soltanto di contenuti dove la gente si esalta per tutto E sempre contenta di qualsiasi cosa che gli capiti davanti Ma in questo caso, su questo canale, non è così Vi parlo di quello che mi piace, ma vi parlo pure di quello che non mi piace E vi spiego perché non mi piace Se me conoscete da un bel po' saprete che il fucile a pompa a carica è la mia arma preferita di Fortnite Perché è un'arma che si differenzia da tante altre Nonché da tutti quanti i fucile a pompa esistenti sul gioco E che richiede un minimo di abilità Lo so, non è di certo Mr. Pro Player che sta parlando Anzi, Mr. Pro Player Ma non essere forti non equivale a non voler cercare di impegnarsi A non voler cercare di superare i propri limiti Anzi, quando riesco ad utilizzare un'arma del genere Ho un'immensa soddisfazione e ve l'ho sempre condivisa Perché giustamente sei riuscito ad utilizzare un'arma Che non tutti quanti sanno maneggiare E che è andata a segno Cioè ha svolto il suo lavoro Quindi di fatto sei stato più bravo di una certa media di giocatori Ed è così che dovrebbe funzionare il concetto di difficoltà nei videogiochi Sì ci sono delle cose accessibili Sì ci sono anche dei videogiochi che sono finibili da chiunque Però il videogioco è anche sfida E Fortnite, che non è di certo un'avventura grafica O comunque sia uno story driven È fatto anche per quello Lo so che ho parlato spesso di persone che si impegnano pure troppo Però parlare di queste persone e criticarle Non equivale ad omettere il concetto di impegno all'interno del videogioco Non è che tutto quanto deve essere facile E tutto quanto deve essere automatico Altrimenti non ci sarebbero dei vincitori e degli sconfitti Il carica P ha sto concetto E lo massimizza Motivo per il quale è la mia arma preferita del gioco Qual è il suo funzionamento? È un fucile a pompa Quindi spara come un fucile a pompa Un solo colpo Quindi simile al nonno Anche per estetica lo ricordava soprattutto all'inizio E consiste nel tenere premuto il tasto per sparare Aspettare che il colpo si carichi In modo tale che la precisione sia massima E rilasciare il tasto sempre per sparare Più il colpo è caricato Più sarà preciso Più sarà anche aumentato il danno Il carica almeno prima del capitolo 3 Sebbene non sia ancora mai stato aggiunto al loot Faceva oltre 200 Quindi era un'arma particolarmente devastante Ed era anche un'arma ad alto rischio Lo è tuttora Perché il suo funzionamento è rimasto invariato In quanto il colpo per essere caricato Impiega del tempo Quindi se sbagli Le possibilità per ritentare All'interno di uno scontro ravvicinato Perché stiamo pur sempre parlando di un fucile a pompa Saranno molto poche Saranno molto basse Potresti morire Potresti tornare in lobby E al contrario di quanto si pensi Il carica era un'arma veramente detestata E snobbata all'inizio della stagione 3 Del capitolo 2 Anzi per tutta quanta la stagione E forse anche per tutta quanta la sua durata All'interno della stagione successiva Quando Vodopo venne rimossa a metà season Perché non era immediata Come tutte quante le armi Che c'erano state su Fortnite Fino a quel momento Pensate ai ritmi frenetici Con cui siamo stati abituati A vedere Fortnite negli ultimi anni Dove la gente corre Pusha Costruisce Edita E cambia arma Con una velocità impressionante Figuratevi quindi Dover equipaggiare un'arma Che ti presuppone di fermarti Aspettare che carica E aspettare il momento giusto Mentre sei all'interno di un fight Che tra le altre cose Non è nemmeno a distanza È ravvicinato E molte persone ci sono volute Un bel po' di stagioni Peccati che quel fucile a pompa Non era da sottovalutare Anzi Se proprio volevano far vedere Che erano bravi Dovevano sapere usare Successivamente è stata introdotta Un'altra arma Che ha delle peculiarità Che ha delle similitudini Di cui il carica Cioè la railgun Che condivide il fatto Di poter predictare i colpi E il fatto che bisogna caricare l'arma Prima di sparare Ma c'ha pure delle differenze Cioè che non può interrompere E sparare prima Con l'animazione di ricarica E che soprattutto Si tratta di un fucile da cecchino Fino a questa stagione qui La 3 del capitolo 3 Dove è stata introdotta La mitraglietta a carica Di cui ho parlato Sin dai primi leak In un video E se vi ricordate Ero contento Perché un'altra arma Col funzionamento del carica E sarà una mitraglietta Quindi l'arma più forte Dell'attuale meta Fantastico E se vi ricordate Ancora meglio Quando ho fatto quel video Ho immaginato il funzionamento D'esta fantomatica Mitraglietta a carica Che pressoché sarebbe stato Lo stesso del pompa a carica Cosa che è effettivamente successa Non ho predictato un bel niente Ma perché giustamente Ti aspetti che se un'arma È a carica Funzionerà come la prima A carica introdotta Cioè il pompa Tutto bello Tutto meraviglioso Poi vai finalmente in game Ne trovi una La provi E ci rimani de merda Ma come? Ma che è successo? Come mai l'arma che funziona Esattamente come la tua arma preferita? Non ti piace? E la reputi addirittura La peggiore della stagione E mo po' lo spiego Come già detto nel precedente video Un problema della Epic Nel capitolo 3 Da quando è stata introdotta La modalità senza costruzioni È il bilanciamento delle armi Perché è vero Ci saranno sicuramente Dei danni diversi alle strutture Grazie all'utente Che me l'ha ricordato nei commenti Ma per quanto riguarda Tutto quanto il resto È Siamo ancora in alto mare Le due modalità Si somigliano troppo A parte le regole di gioco E sempre come ho già detto In passato Ci vorrebbero più differenziazioni Per quanto riguarda Il loot Quindi il tipo di armi Che potresti trovare In una modalità O nell'altra Sebbene molte debbano rispettare Il tema della stagione E soprattutto Il numero dei danni Perché essendoci il sovrascudo È chiaro che alcune armi Dovranno fare più danno Altrimenti saranno pressoché inutili Saranno scartate Mentre in una modalità classica Come quella con le costruzioni Le utilizzeresti Molto ma molto più volentieri Perché converebbero di più E la famosissima mitraglietta a carica Anzi l'infame mitraglietta a carica Ha un grave problema Cioè Fa troppo poco danno Ma attenzione Non mi sto riferendo Al fatto che quest'arma In generale Tolga troppo poco Come si potrebbe dire per qualsiasi altra arma Quanto più Che toglie troppo poco Per la difficoltà Che serve per utilizzarla Perché come il pompa a carica Questa è un'arma ad alto rischio Dove difficilmente Sbagliando Molto vicino ad un giocatore Tra altre cose Potrai avere una seconda chance E quindi Dovresti essere ricompensato Con un grande danno Laddove riuscissi ad andare a segno In questo la mitraglietta a carica sbaglia Qualcuno nei commenti Mi è venuto a scrivere Dicendo Ma non è vero Questa è un'arma Che riesce a tenere testa Alla stinger E quando tu riesci a colpire qualcuno Lo sciogli Non è assolutamente vero Allora Iniziamo col dire Che la mitraglietta stinger Ad oggi C'ha già dei problemi di suo In quanto Questo è un meta Che si basa sugli assalti E sulle mitragliette E le mitragliette Vengono costantemente Nerfate Ogni volta Sempre di più Ad oggi La stinger Toglie 15 Ed ogni volta C'è sempre qualcuno Che se lamenta Dicendo No 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 Le mitragliette Sono troppo forti Nerfatele ancora di più Praticamente Diventano ancora più deboli Di quanto nullo fossero Nel precedente capitolo Cioè che devono fare Devono sparare mentine Ma vabbè non si sa Ma quando qualcuno Inizia a pestare i piedi A far rumore C'è stanno dei nerf Ingiustificati Che rendono veramente Difficultoso il bilanciamento Escondendo gli assalti No Se già l'arma meta Per eccellenza C'ha problemi di bilanciamento De suo Perché è stata costantemente Nerfata Come puoi Pretendere di introdurre Un'arma Che per numero di danni Si equivale a quella Ma è infinitamente Più difficile da utilizzare Perché richiede Un'abilità fuori dal comune O comunque sia Non la si può utilizzare Nella maggior parte Dei contesti In quanto Serve solo per specifiche situazioni E non è adatta A tutti i tipi di giocatori È evidentemente Un'arma inutile Poi per favore Evitiamo di difendere un'arma Solo perché ci avete fatto Qualche kill Perché allora potrei difendere Le lattine Che tolgono 5 Solo perché una volta Per puro culo Ci ho ammazzato una persona Si presume che tutti gli oggetti Che fanno danno Possano killare Ma non tutti gli oggetti Sono utili O non lo sono sempre Se il danno fosse stato elevato Come il pompa A quest'ora Non starei facendo questo video Questo video non esisterebbe proprio E invece siamo qui a parlarne Perché il funzionamento È lo stesso identico Quindi mi piace Ma è stato bilanciato male E quindi tutti quanti La scarteranno Non perché la stanno sottovalutando Come è successo per il pompa In stagione 3 del capitolo 2 Bensì perché nessuno La ritiene conveniente Se un'arma o un oggetto Sono difficili da utilizzare Deve esserci il massimo risultato Perché quelle poche persone Che la sapranno utilizzare Ne trarranno il massimo vantaggio Con quest'arma Non si ottiene proprio Questo tipo di risultato Quindi è inutile E di fatto In conclusione La mitraglietta a carica Almeno per il momento Poi magari un giorno La bufferanno incredibilmente È la più grande delusione Di questa season Ma ora Cri monkeys monkeys Qua sotto nei commenti Voglio sapere la vostra Che ne pensate Della mitraglietta a carica La state scartando anche voi La detestate tanto quanto me O meglio Ne siete rimasti Totalmente delusi Oppure siete quelle persone Temerarie Come il tizio dei commenti Che ho citato E la usate Nonostante tutto E anzi Forse siete i pochi Che la reputano Veramente utile La sezione dei commenti Di questo canale È a vostra più completa disposizione E sapete che So curioso delle legeve Vi ringrazio Per tutto quanto l'immense E infinito Costante supporto Che date ogni giorno Al canale Sapete pure Che apprezzo tantissimo E infatti Dovuti e meritatissimi Ringraziamenti Non posso Che darvi appuntamento Direttamente Ad un prossimo Video Alexa Che poi Tra l'altro Si Non può dire Nella storia Spade M con Rampino È un controsenso Vabbè Che nella Jones E d'art father Nello stesso posto A senso Di nuovo Tra con l'arma in mano Con l'arma in mano L'ho visto L'ho visto Da Apex L'ho visto L'ho visto No no Ma era anche la vecchia clip Finale Solo che con l'arma in mano Così Non è ancora successo Questa roba Era con le ragniatele Di spiderman M'uoi ritornata Con il rapino E' vero E' questa statura Guarda Probabilmente Domani direttamente Allora Dopo faremo E' vero Grazie a tutti.